In una notte Londra ha dimostrato che sa reagire, sa piangere le vittime ma anche combattere il terrore. Dalla premier Teresa May al sindaco di Londra, Sadik Khan, ai 50.000 giovanissimi che hanno gremito il prato del Lord Trafford Cricket Ground di Manchester per il concerto di beneficenza voluto da Ariana Grande che torna sul palco col trucco da donna e l'espressione da bambina insieme a tante altre pop star dopo l'esplosione di due settimane fa, costata la vita a 22 persone. Cantano con orgoglio Manchester, siamo forti. Sono spaventata ma in fondo può accadere ovunque, in qualunque momento, ma siamo qui per questo, per dire che siamo i più forti, dice questa ragazza. Dopo lo shock riprende oggi la campagna elettorale che era stata sospesa in Gran Bretagna da quasi tutti i partiti e giovedì 8 giugno si voterà come previsto e riapre anche la stazione della metro, London Bridge. Quando è troppo è troppo, ha detto Teresa May chiedendo di mettere fine ad ogni tolleranza verso l'estremismo islamico che fomenta e pratica l'odio contro i valori occidentali. La polizia intanto continua la caccia ai possibili fiancheggiatori dei tre killer che per 8 minuti hanno seminato il terrore al London Bridge e al Borough Market, uccisi poi quasi subito dagli agenti, ma sulla cui identità la polizia mantiene ancora il riservo. Arrestate una quindicina di persone, uomini e donne, dopo le perquisizioni nel quartiere di Barking, dove abitava uno del commando con moglie e figli. Quartiere di quella sterminata periferia londinese è diventata anche una nicchia dell'estremismo islamico, mentre le tracce dei terroristi portano anche Allistand, altro quartiere in cui vivono abitanti di origine asiatica e africana e operai bianchi, dove si teme sia avvenuta la radicalizzazione. La rivendicazione dell'Isis è arrivata ieri sera tramite AMAC, l'agenzia del sedicente califato. Intanto è stata identificata la prima vittima, Christine Archibald, una canadese che era venuta a Londra per sposare il fidanzato e morta tra le sue braccia.